Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessante saggio pubblicato da poco dalle edizioni dell'Orso dal titolo Le metamorfosi di Renan la volpe a cura di Massimo Bonafin che abbiamo il piacere di avere nostro gradito ospite e al quale io come mia abitudine lascio subito la parola per non rubargli altro tempo e per ascoltare cosa ci racconta di questa metamorfosi. Prego professore, a lei. Grazie, grazie mille di questo invito di Italia Medievale che mi permette di parlare appunto del Romano de Renan, che è un testo molto interessante e molto noto a livello europeo e un po' meno forse a livello a livello italiano. Il libro in questione appunto Le metamorfosi di Renan la volpe contiene in realtà un'antologia di racconti molto molto cospicua che è il terzo capitolo diciamo di un lavoro di traduzione di questi testi che ho cominciato ancora alla fine del secolo scorso nel 1998-99. Il primo volume che era apparso, approfitto diciamo per per mostrarlo, è il romanzo di Renan la volpe e successivamente una seconda corposa antologia di questi testi è stata intitolata invece Vita e morte avventurose di Renan la volpe. Sono tutte pubblicate dalle edizioni dell'Orso. Ovviamente parliamo di letteratura medievale in questo caso e dicevo subito che mentre se io citassi il Romano de Renan in un contesto internazionale, francese, inglese, tedesco, nord europeo genericamente, non ho dubbi che tutti saprebbero subito di cosa si tratta perché davvero è un testo che ha avuto una notorietà internazionale. Sono una lunga serie di racconti che hanno per protagonista appunto la volpe Renan che sono stati scritti in grosso modo fra il 1170 e il 1250. Quindi non è un romanzo in senso compiuto ma è una sorta di genere letterario composto da diverse storie. Dicevano un'autorietà europea perché basta pensare a Goethe. Goethe scrive appunto alla fine del Settecento il suo Reinecke Fuchs basandosi sulla versione germanica di queste storie, versione naturalmente che è molto importante non soltanto dal punto di vista storico ma anche proprio dal punto di vista della discussione, farò magari un accenno se possibile più tardi, sulle origini di questi di questi racconti. Ma possiamo anche cambiare genere, voglio dire pensiamo al teatro musicale, il teatro musicale del novecento, a cavallo fra l'ottocento e il novecento e poi in pieno novecento, conosce per esempio con Leo Sianashek la volpe astuta, un'opera in tre atti, conosce con Igor Stravinsky il balletto Renan, perché proprio queste storie appunto hanno un radicamento molto forte nella tradizione tedesca e anche russa, quindi nel mondo nordico in generale. Ma per fare ancora un esempio del tutto diciamo alieno da quello che abbiamo detto finora, i cortometraggi. Ci sono dei cortometraggi animati, uno abbastanza famoso, si trova credo anche su YouTube, di Ladislav Starievich, che ha per protagonista appunto le storie di questa di questa volpe, perché il nostro protagonista è appunto una volpe e perché no anche i cartoni animati più classici, cioè Walt Disney. Walt Disney aveva il progetto di trarre un cartone, un film, dalle storie del Romando Renard. Non ci riuscì in realtà, però mantenne un po' l'idea del personaggio nel cartone animato di Robin Hood, in cui chi lo ha visto ricorderà che il personaggio di Robin Hood è una volpe, è una volpe, ha le fattezze di una volpe. Quindi non stiamo parlando diciamo di un'opera letteraria peregrina, ripeto, è meno nota in area italiana, ma chiunque conosce la letteratura medievale europea sa di cosa stiamo parlando o ne ha sentito parlare. Ecco non si tratta naturalmente di favole per bambini, questo va subito va subito specificato, nel senso che è ovvio che questi racconti hanno un rapporto con la tradizione fabolistica. Sicuramente ci sono stati molti studi in proposito. Però vorrei sottolineare proprio anche gli elementi di discontinuità. Non è la volpe di Esopo, di Fedro, non è la volpe della tradizione fabolistica che conosciamo. Anche perché, come subito insomma vi sarete resi conto, questa volpe ha un nome, si chiama Renard, quindi è un personaggio, è un personaggio, è un protagonista, se vogliamo dire una maschera. E parleremo appunto delle metamorfosi verso la fine di questa conversazione, sperando che non sia eh troppo eh troppo noiosa. Eh quindi non si tratta, diciamo, di favole per bambini, ma in realtà di una di una di una rappresentazione del mondo eh dei suoi conflitti attraverso personaggi animali. Personaggi zoomorfi, come come a me piace dire, perché spesso quando pensiamo ai cartoni animati, appunto Paperino, Topolino, parliamo di antropomorfismo di questi personaggi, no? E lì funziona abbastanza. Qui invece la domanda che ci dobbiamo porre, che ci porremo, è perché a un certo punto eh le diverse civiltà, in questo caso parliamo della civiltà letteraria medievale, ma eredita naturalmente ciò che viene prima di lei, hanno sentito il bisogno di raccontare delle storie con dei personaggi che agiscono come baroni, cavalieri, antagonisti buoni, cattivi e così via, però appunto con personaggi che hanno un viso, no? Delle fattezze, dei comportamenti, dei tratti animaleschi, zoomorfi e soprattutto, come dicevo, hanno infatti dei nomi e cognomi. Cognomi del Medioevo naturalmente non ci sono, era un'espressione enfatica la mia, ma hanno dei nomi. Quindi non è la volpe generica, non è il lupo, non è l'orso, non è il leone, ma è la volpe rennare, sarà il lupo isengrino, il leone nobile e così via. In generale, diciamo, la critica ormai è abbastanza concorda sul fatto che questo personaggio rennare, la volpe rennare, protagonista, dicevo, di questo grandissimo ciclo narrativo, per dare solo un'idea, stiamo parlando di qualcosa che distribuito su 14 manoscritti principali è complessivamente più del doppio della divina commedia. Quindi, vuol dire, stiamo parlando di racconti molto, molto, molto importanti. Ecco, la critica, dicevo, è d'accordo su che cosa? Sul fatto che noi possiamo vedere questo personaggio, la volpe rennare, come l'incarnazione medievale di un archetipo noto, l'archetipo del trickster, dell'imbroglione, un archetipo che gli antropologi conoscono bene, negli studiosi delle religioni anche, delle mitologie, è un personaggio che si trova un po' in tutte le latitudini e che coagula attorno a sé dei racconti, una narrativa seriale, delle sequenze di episodi e che soprattutto, diciamo, è caratterizzato da una fondamentale e costitutiva ambivalenza. Quello che fa questo personaggio attraverso gli imbrogli, gli inganni, le astuzie, spesso è la parodia delle azioni di un demiurgo e spesso sono azioni che portano a risultati inattesi, quindi non sempre ha successo nei suoi imbrogli, nei suoi inganni e soprattutto spesso appunto questo personaggio ha appunto un aspetto zoomorfo. Quando parlo del trickster sto pensando naturalmente alle latitudini più diverse dai nativi americani agli australiani alle popolazioni africane e così via, ma posso pensare anche a Hermes per esempio, quindi è un personaggio che si trova veramente in quasi tutte le mitologie e le regioni. I suoi caratteri fondamentali noi li ritroviamo in questo personaggio della volpe Renard a cui il Medioevo ha dedicato veramente una serie di racconti straordinari, molto divertenti alcuni, molto satirici altri, molto diciamo importanti anche per chi voglia, a mio avviso, avere un approccio, una conoscenza del Medioevo un po' più ricca, un po' più sfaccettata. Quando parlo di trickster evidentemente, ecco le allusioni che ho fatto, subito sono portato anche a capire, a riflettere sul fatto che mentre ho di fronte dei testi della letteratura medievale, quindi che sono scritti in ottonari, che sono scritti in versi, insomma che hanno una loro letteralità, che in parte ereditano anche dalla tradizione antica, mi devo confrontare con dei personaggi e con delle storie che vengono da lontano, vengono dal folklore, dalla cultura popolare e questo si studia abbastanza bene nella trasformazione, per esempio, di queste storie sugli animali, nel momento in cui passano, questo l'hanno studiato bene i folcloristi del secolo scorso, da un ambiente all'altro. Che cosa voglio dire? Voglio dire che le stesse storie, alcune catene narrative molto interessanti, che vedono per protagonista la volpe renare e come antagonista nella versione francese il lupo, ma nelle versioni diciamo germaniche e dell'Europa settentrionale l'antagonista è l'orso. E quindi noi abbiamo dei racconti che sono testimoniati a livello folclorico fino al secolo scorso, patrimonio quindi del mondo slavo, del mondo baltico, del mondo germanico, del mondo settentrionale europeo, che sostanzialmente sono identici nell'intreccio a quelli che noi leggiamo nella letteratura francese medievale con questa differenza di personaggio. Non l'orso che evidentemente della Francia medievale non era, come dire, più un animale dominante, non era più il rai della foresta, non era più il personaggio dominante, ma il lupo. L'antagonista però è sempre la volpe renare. Quindi la domanda sostanzialmente che pongono questi testi a noi, a noi lettori di oggi, è molto semplice. Perché? Perché gli animali? Che bisogno c'è appunto di raccontare delle storie con dei protagonisti animali. È un problema complesso, ovviamente non intendo né affrontarlo né sfoggerlo in questa sede, però cerco solo di far capire come attraverso queste storie, che ripeto a leggere sono altrettutto estremamente godibili e divertenti, noi possiamo comunque confrontarci con dei temi culturali generali che il Medioevo ci presenta in una maniera molto forte, ma che non sono specificamente medievali. Lo attraversano, per così dire. Quindi il primo problema è quello a cui ho già accennato, i nomi. Qui abbiamo dei personaggi animali con dei nomi propri, con dei nomi propri e spesso anche con dei nomi di parentela. Quindi i rapporti di parentela fra gli animali di per sé potrebbero non sembrare sorprendenti se non pensassimo e non sapessimo da altre fonti che questi rapporti di parentela e spesso di parentela spirituale, quindi comare, compare, padrino, madrina, questa parentela spirituale coinvolgono insieme animali e gli esseri umani. Quindi ci portano in un territorio che alcuni studi vogliono connettere alle forme, diciamo così, di totemismo primitivo sopravvissute a lungo nella civiltà occidentale. Pensate che ancora in epoca moderna esistono documenti che associano animali come la volpe ai riti di battesi. Potremmo definire questi racconti, come dicevo, nel loro complesso come l'avventura della sopravvivenza, no? Perché in fondo che cosa fa questo personaggio? Tipicamente esce dalla sua tana e va alla ricerca di cibo. Va alla ricerca di cibo e per trovare del cibo per sé, per la sua famiglia, è evidentemente costretto a incontrare degli avversari, degli antagonisti. Quindi il primo obiettivo è nutrirsi. Il secondo obiettivo di questo animale sarà un obiettivo fondamentale, fisiologico anche questo, no? Riprodursi. Quindi il cibo, il sesso, sono due protagonisti fondamentali di questi racconti. E come può conseguire evidentemente questi due obiettivi? Attraverso l'unica arma che può avere un piccolo animale che compete con grossi predatori, qual è la volpe. Un animale debole fisicamente può affrontare degli animali più forti di lui, naturalmente questo sia in chiave naturalistica e etologica, sia in chiave metaforica, come capite bene, attraverso che cosa? Attraverso l'inganno, l'imbroglio, l'astuzia, no? L'arma del debole contro il forte, no? Se io non posso competere sul piano fisico, posso competere sul piano intellettuale. E questo ha reso questo personaggio veramente unico, no? E grande nel panorama narrativo della letteratura romanza e della letteratura francese in particolare. Perché l'astuzia, l'imbroglio, l'inganno, insomma lo sappiamo, no? È uno dei grandi motori novellistici. È ovvio che il riferimento scontato per noi italiani va al Decameron di Boccaccio, ma tutta la tradizione novellistica si impernia spesso su questi contrasti, no? Lo sciocco e il furbo, l'astuto, l'imbroglione. Solo che qui nel personaggio di Renard questa caratteristica è una caratteristica, come dire, costitutiva, strutturale. Non è semplicemente la volpe furba, la volpe astuta delle favole. È la volpe astuta e furba in un contesto determinato. In un contesto determinato che è quello della società feudale, del Medioevo, diciamo, francese sostanzialmente. E quindi ecco che noi abbiamo in questo testo, che cosa? La sovrapposizione di diversi piani. Il piano, come dire, di lungo periodo, il piano storico-antropologico, i grandi archetipi appunto della narrazione, a cui accennavo poco fa, e la rappresentazione di un contesto storico determinato, la società feudale francese del XII e del XIII secolo, e la sua letteratura. Perché se è vero che il romano Renard dà forma narrativa a questo, diciamo, archetipo antropologico dell'imbroglione, del trickster, è anche vero che gli autori di queste storie, sono molti autori, come dicevo, non è un testo unico, unitari, è un romanzo in un certo senso, si può dire che sia un romanzo perché sperimenta molte tecniche narrative che poi il romanzo successivo farà proprio. Ma non lo è in senso proprio perché è un genere a cui diversi autori, tanti autori nel corso dei secoli, hanno dato il loro contributo. E quindi lo hanno dato anche in funzione di un loro rapporto con la letteratura contemporanea. E quindi ecco la parodia dei generi della letteratura alta, ufficiale, la parodia del romanzo cortese, la parodia delle canzoni di gesta, la satira delle norme e dei comportamenti paradigmatici dei diversi gruppi sociali. Per esempio, la società che fa da sfondo a Romain-Dernard è una società imperniata ovviamente sulla monarchia di questo re, il leone, noble, con la sua corte che è rappresentata in una tipologia di branche abbastanza importante, quelle in cui appunto gli animali che sono stati vittime, i diversi animali che sono stati vittime dei tiri di Renard, dei suoi ingani, delle sue astuzie, dei suoi imbrogli, vanno a lamentarsi, vanno a lamentarsi alla corte del re. E quindi abbiamo questo doppio asse narrativo, i singoli incontri di Renard con gli animali in cui la sua astuzia riesce sempre, quasi sempre, ad avere la meglio e poi ovviamente le querele, i lamenti, le denunce, possiamo dire così, che questi animali fanno alla corte del re noble per ottenere giustizia, per ottenere giustizia. All'interno di queste rappresentazioni hanno spazio anche naturalmente dei personaggi antropomorfici, cioè degli esseri umani. Quindi non sono storie solo di animali, sono storie in cui gli animali e gli esseri umani vivono nello stesso ambiente naturale, vivono nello stesso ambiente anche sociale. Quindi si incontrano. A volte sembra che si parlino, non sembra che si parlino, a volte si parlano direttamente, si parlano veramente. Quindi sono diversi livelli naturalmente di sviluppo di questa dinamica. Ma quello che adesso volevo dire, soprattutto è un'altra cosa, cioè che la rappresentazione della società medievale fatta in questi testi, e ripeto, fatta anche in modo molto parodico, satirico, caricaturale, divertente, è una rappresentazione in cui l'opposizione, che per noi sembrerebbe fondamentale, fra animali ed esseri umani, in realtà è attraversata da un'altra opposizione molto più importante dal punto di vista storico-sociale, quella fra dominanti e subalterni. Quindi ci sono animali che sono ovviamente i protagonisti e che sono gli animali della corte di nobile, i baroni, il rena stesso è uno dei baroni più importanti, quindi appartiene sicuramente alla classe dominante. Ci sono animali che invece hanno in questi racconti un ruolo di comprimari, animali, come io dico, più animali degli altri, le galline vittime di Renard, gli animali da cortile, animali che non parlano molto spesso, e quindi anche all'interno di questa rappresentazione abbiamo questa frattura fra dominanti e subalterni, ma questa frattura, dicevo, intreccia anche quella fra esseri umani e animali rappresentati. Perché? Perché ci sono evidentemente nel romando Renard contadini, parroci, preti, quasi sempre i personaggi animali nel romando Renard, tra le rarissime eccezioni, appartengono a dei ceti subalterni. A dei ceti subalterni. Quindi anche questo è un aspetto, come dire, interessante che questi testi literari ci presentano. Ma veniamo un po' più, diciamo, ai temi, forse agli intrecci delle storie che i nostri ascoltatori possono avere la curiosità di conoscere. Naturalmente non starò a raccontare le storie che ci sono in queste decine di racconti, anche per non togliere, diciamo, come dire, la soddisfazione e il gusto di leggerle ai lettori. Ma un'idea è giusto che chi la dia proprio perché immagino che chi ascolta non sia familiare con questi testi. E forse potrebbe anche non essere interessato semplicemente a tutto il contesto storico-culturale a cui ho accennato fino adesso. E allora gli intrecci diventano un motivo importante, un motivo che può suggerire in vitale alla lettura di questi racconti e farli conoscere un po' di più, ripeto, anche per il pubblico italiano. La prima avventura, per così dire, di Renard, quella che rappresenta un po' il peccato originale di tutte le storie successive che viene sempre ripresa e a cui ci si riferisce sempre, è un'avventura di adulterio, di adulterio e di violenza. E di violenza. Renard arriva nella tana della lupa, Hersan, che è sposata con il lupo Isangren, Isangrino, e dopo un rapido scambio di battute la persuade a diventare la sua amante, quindi ad avere un rapporto con lei. Questo ovviamente scatena poi la reazione del lupo Isangrino, il quale insegue insieme alla sua moglie, alla sua consorte, Hersan, Renard in un'avventura successiva. Ma anche in questa avventura successiva le cose volgono a favore di Renard perché la lupa, Hersan, rimane intrappolata nell'ingresso della tana di Renard e la volpe, che è maschio, ovviamente in questi racconti, approfitta della situazione, approfitta della situazione e quindi possiede, come si dice da tergo, Ferrarum more, come le bestie, la nostra povera lupa. Quindi vedete già all'inizio, cominciamo con una storia che non è proprio per bambini, perché abbiamo una storia di adulterio e una storia di violenza, di stupro. Da qui seguirà il primo processo alla volpe, il primo processo alla volpe e quindi il processo intentato appunto da Isangrino e da Hersan contro Renard per la violenza subita e per l'adulterio. Questo permette a questi racconti di rappresentare ai nostri occhi naturalmente la giustizia medievale. È molto interessante anche la rappresentazione del processo perché naturalmente non solo ci permette di vedere diciamo dei tratti della giustizia medievale che sono evidentemente lontani dal diritto moderno come lo conosciamo, ma per certe argomentazioni appunto che vengono portate nel testo potrebbero sembrare invece anche straordinariamente assonanti con dei pregiudizi, con dei luoghi comuni con cui ancora noi facciamo i conti. Nell'accusa che Hersan e Isangrino portano contro Renard, l'offeso è Isangrino, naturalmente. La moglie, la femmina, è una parte del marito, della coppia. Quindi è il lupo che è stato offeso nel suo onore. Quindi interessante questa riflessione sul ruolo della donna. Non solo, ma l'onore della prova è a carico dell'accusato. Cioè una volta che l'accusa è portata è Renard che deve difendersi e discolparsi. Quindi anche questo aspetto è piuttosto interessante. Questa storia, diciamo, è un po' la storia generatrice, archetipica, potremmo dire dal punto di vista narrativo, di molte altre. È sempre ripresa, rievocata in molti racconti successivi, ma non è evidentemente la sola. Ce ne sono tante altre, gli intrecci sono molto vari, molto ricchi. Un tema molto sfruttato, molto presente, è quello della religione e dei suoi ricchi. Quindi molte branche hanno al loro centro narrativo, per esempio le credenze religiose, la credenza nell'aldilà, la confessione, i funerali, la messa. La confessione addirittura diventa a un certo punto un espediente narrativo attraverso cui Renard racconta le proprie storie. Renard si confessa per cercare di evitare la condanna, per scampare alla forca che lo attende per tutti i suoi numerosi peccati e per tutte le numerose cattive azioni che ha compiuto contro i suoi avversari. Ma è una confessione spesso parodica, spesso rovesciata, caricaturale, confessione in cui Renard dice sostanzialmente, per esempio, per riferirmi al caso di Ersan, ma non è l'unico, Renard poi commette adulterio anche con la stessa regina fiera, con la leonessa. Renard dice in fondo, ma se io ho commesso questi adulteri, ho avuto questi rapporti con Ersan e con fiere, con la lupa e con la leonessa, in fondo, perché me lo si deve rimperverare? Ho fatto loro del bene, ho fatto loro piacere e loro me lo possono confermare. Quindi la confessione, diciamo, è rovesciata. Le credenze dell'aldilà. A un certo punto delle sue avventure, Renard finisce in fondo a un pozzo, si affaccia sul bordo del pozzo, il luco isengrino, passa di là, vede Renard nel fondo, riflesso nell'acqua, e Renard, per uscire dalla situazione in cui si trova, fa credere al lupo di essere morto, di essere nell'aldilà, un'aldilà naturalmente in cui ci sono molte cose appetitose per il lupo, pecore, montoni, ovini, animali, ogni cosa che può, un'aldilà che è un paese di cuccagna, e in questo modo il lupo che vuole raggiungere questo aldilà molto, come dicevo, appetibile, sale nel secchio, nella carrucola del pozzo e scende. Ovviamente nella carrucola, un altro secchio legato alla stessa carrucola, si è messo Renard e quindi come scende il isengrino che è più pesante, Renard che è più leggero può salire e uscire dal pozzo. Questo è l'intreccio, ma è chiaro che molto più, diciamo, gustoso è la rappresentazione dell'aldilà in questo modo. Renard a un certo punto, per fare un altro esempio, muore, ma come tutti gli eroi naturalmente non muore mai, muore tre volte, il che equivale a dire che non muore effettivamente, viene, perde i sensi, viene creduto morto una prima volta, viene creduto morto una seconda di un combattimento, insomma, vengono fatti i funerali per Renard e questi funerali, di nuovo, sono funerali assolutamente, come dire, scoppiettanti, potremmo dire, fantastici, in cui tutta la messa in scena religiosa è rispettata. quindi la messa, l'omenia, tutti questi aspetti, ma, per esempio, l'omenia pronunciata su Renard a un certo punto si capovolge perché l'arciprete, Bernardo, asilo, che deve dire questa omenia, cosa fa? Comincia a parlare di Renard come dei morti si parla sempre bene, ma per parlarne bene finisce per glorificare le sue azioni, le sue azioni che appunto sono, abbiamo visto, stupri, violenze, omicidi, furti, inganni, raggiri di ogni tipo e quindi tutti questi che dovrebbero essere appunto peccati vengono invece trasformati in atti meritevoli di loro. In altre branche raccolte naturalmente parlo di quelle che sono tradotte in questi tre testi, in questo trittico antologico che ho realizzato nel corso degli anni anche con l'aiuto, devo dirlo, di bravissime e validissime diciamo allieve che si sono laureate e adottorate con me all'Università di Macerata prima. Dicevo appunto la messa è tematizzata, c'è una messa in cui Renard questa volta non con il lupo ma con il gatto, il gatto e la volpe un'altra coppia molto importante, si trovano in chiesa e si sostituiscono a un prete per dire messa, quindi anche qui potete immaginare che tipo di messa che tipo di messa sarà. La Sacra Scrittura, la Genesi stessa o il Vangelo quindi sono utilizzati, si potrebbe dire presi di mira, c'è in un racconto in cui si rifà la Genesi, una Genesi parodica si racconta come vennero al mondo il gruppo, la volpe e gli altri animali. Qui però vorrei sottolineare una cosa, nelle nostre letture spesso forse siamo un po' portati a enfatizzare questi elementi in chiave moderna, in chiave laicista, in chiave irreligiosa. Noi dobbiamo pensare che per il Medioevo il linguaggio comune di tutti è il linguaggio religioso, quindi che il cristianesimo in tutti i suoi aspetti è il paradigma a cui confrontare la realtà concreta, con cui dire la realtà, con cui parlare e quindi non sempre non sempre diciamo queste parodie sono rivolte direttamente alle credenze religiose o ai testi religiosi ma usano come strumento, come mezzo per naturalmente sanzionare, colpire, irridere, sbeffeggiare vizi e difetti e così li crociate. Renato a un certo punto per scampare all'ennesima minaccia di essere condannato a morte dice va bene mi farò pellegrino, mi farò crociato, lasciate che vada via e questo ovviamente è una scappatoia che offre al re Leone e il re Leone è ben contento perché sa che Renato è il suo miglior barone però dice una cosa dice sottovoce mentre nessuno lo sente dice tanto so che alle crociate nessuno è tornato migliore di come è partito quindi è chiaro che anche qui abbiamo una doppiezza un'ambivalenza tipica di questo personaggio non manca il tema delle reliquie anche qui si potrebbero fare numerosi esempi le reliquie miracolose Renato uccide per esempio una gallina non solo una naturalmente più di una sulla tomba di questa povera questo povero animale ovviamente vanno poi a diciamo fermarsi a pregare e evocando attualmente riti che conosce bene anche l'antichità classica degli altri animali perché perché ritengono appunto che le reliquie di questa santa martire di Renato facciano miracoli abbiano dei poteri taumaturgici guariscano dalle ferite dei malanni e così via e infine davvero davvero siamo in conclusione visto che questo ultimo volume appunto si chiama la metamorfosi di Renato la volpe e il tema il tema delle metamorfosi delle maschere dei travestimenti si è già capito spero che Renato è un personaggio polimorfo non solo perché per i suoi imbrogli per i suoi inganni assume spesso delle maschere dei ruoli delle fisionomie diverse ma anche perché egli è in grado di passare attraverso appunto diverse figure è polimorfo come come Ulisse è politropos cioè è capace di avere una identità potremmo dire flessibile che si adatta alle circostanze che è in grado di cogliere l'occasione mentre i suoi antagonisti destinati sempre a perdere sono i portatori di un'identità rigida sono sempre legati all'istinto fanno sempre quello come fa Renato ad esempio a ingannare a un certo punto Tiber e l'orso quando si recano da lui per portarlo a corte e a Tiber dice guarda so di un posto dove ci sono c'è una cantina dove ci sono dei bei sorci grassi allora Tiber non capisce più niente l'istinto domina e quindi si fa il retiro da Renato portare in questa cantina dove ovviamente sorci non ce ne sono e viene naturalmente ad essere lui la vittima del contadino del personaggio che lo rinchiude nella cantina e Renato si libera di Tiber che appena sente l'istinto la rigidità dell'istinto con l'orso Bruno è lo stesso all'orso Bruno che cosa dice guarda so di un posto dove c'è un bellissimo favo di miele e allora l'orso mangia miele per definizione subito non capisce più nulla non sa più perché è andato da Renato si fa portare dall'angola in questo posto e ovviamente anche a lui andrà male ecco gli altri personaggi vittime di Renato hanno un'identità rincita rispondono sempre allo stesso modo in stessi stimoli quasi diciamo Pavloviani potremmo dire mentre vince Renato perché sa accogliere l'occasione sa accogliere il Kairos è un personaggio polimorfo è astuto sa adattarsi e quindi anche se di metamorfosi veri e proprie non ce ne sono nel senso che non è che si trasformi lui in altri animali però il tema della metamorfosi della maschera del travestimento è sempre presente perché Renarsi traveste per esempio non farsi riconoscere come finisce nella tinozza di un giullare e la tinozza di giallo brillante esce tutto giallo brillante e quindi diventa un altro un altro animale che gli altri non riconoscono e con la sua capacità diciamo di cantare di raccontare si spaccia per per giullare in un altro racconto si tinge il muso di nero con un'erba altrove appunto si abbiamo visto l'esempio della messa con il gatto tibera si spaccia per prete senza portare o meno la stola o i paramenti però sa abbastanza di religione da farsi scambiare per un prete vero fino a un certo punto come ovvio quindi si muove attraverso una pluralità di ruoli è abbiamo detto il miglior vassallo del re noble ma è anche l'amante della leonessa e della luta è un consigliere qui diciamo ci sarebbe un discorso sull'etimologia del nome che qui non possiamo ovviamente affrontare è un consigliere un suggeritore un ispiratore nel bene e nel male dei suoi antagonisti diventa a un certo punto proprio nei racconti di quest'ultimo volume reggente e imperatore si sostituisce addirittura nel trionfo finale di Renard però in altri racconti abbiamo detto a Pellegrino Crociato Giullar abbiamo detto Margo anche qui un racconto molto interessante o Demiurgo ma Demiurgo in senso proprio pensate che in uno di questi racconti di quest'ultimo volume le metamorfose di Marle la volpe Renard sotto diciamo spoglie più o meno mentite è protagonista di un'azione che come dicevo all'inizio non sono proprio favole per bambini consiste niente proprio di meno che nel creare nel creare un organo sessuale femminile a un animale che non lo possiede quindi vedete come insomma i temi sono sono diversi io non voglio non voglio aggiungere altro spero di aver dato un'idea insomma di che cosa sono questi racconti e che finalmente diciamo anche i lettori italiani possano divertirsi con queste avventure e sicuramente anche pensare riflettere un po' di più al Medioevo fuori dai canoni con cui lo conosciamo beh starei ora a sentirla e soprattutto correrei in libreria a comprare questo interessantissimo volume di cui io ricordo il titolo Le metamorfosi di Renar la Volpe a cura di Massimo Bonafin che abbiamo avuto il piacere di ospitare pubblicato da poco dalle edizioni dell'Osso e sicuramente ci trovate un Medioevo che non vi aspettate perché anche in questo consiste la sua particolarità ricordo a tutti di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org ringrazio tantissimo il professor Bonafin per averci narrato delle metamorfosi di Renar la Volpe e vi do appuntamento al prossimo incontro alla prossima video presentazione grazie ancora professore grazie a voi grazie a lei grazie a tutti